7 milioni e 700 mila euro per il Parco archeologico del Rampigna per un sogno che sta per diventare realtà. Oggi riunione in comune con il sindaco Carlo Masci e con i responsabili della sovrindendenza Chieti-Pescara. Come è andata? Sì, un altro sogno che sembrava impossibile e che invece riusciamo a realizzare perché il Ministro ha assegnato a Pescara 7 milioni e 700 mila euro per il Parco archeologico del Rampigna, la gestione della sovrintendenza giustamente perché parliamo di opere d'arte e questa operazione si svolgerà in tempi ragionevoli. Io ho voluto mettere attorno a un tavolo sia il segretariato regionale dell'Aquila delle sovrintendenze e sia la sovrintendenza Chieti-Pescara perché possano dialogare insieme con un'unica regia per realizzare quello che è il sogno dei pescaresi, avere una storia legata a una città che risale a oltre 2400 anni fa quando due anni e mezzo fa abbiamo deciso di sospendere i lavori che c'erano a Rampigna per la riqualificazione del campo per dedicarci tutto al recupero dello spazio del Rampigna come sito archeologico abbiamo lanciato una sfida e questa sfida è stata raccolta dalla sovrintendenza insieme abbiamo percorso un tragitto che ci ha portato ad ottenere questo finanziamento di 7 milioni e 700 mila euro. Adesso stiamo passando alla realtà fattuale l'opera dovrà essere realizzata, stiamo definendo i dettagli dell'operazione dal punto di vista tecnico, burocratico amministrativo, il Comune di Pescara si è fatto parte dirigente per mettere insieme coloro che devono dialogare perché il progetto è unitario, perché il progetto è grandioso, perché Pescara è una città che guarda sempre al futuro ma ha i piedi ben piantati a terra con le radici che risalgono a millenni fa. Grazie 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 Grazie